Ciao a tutti, nel video di oggi, Fedez, mentre parla della puntata di Mosco Servaggio uscita oggi, viene interrotto ripetutamente da Vittoria, che sta combinando qualche guaio. Vi lascio al video, buona visione. Ah, Vittoria? Ma cosa stai facendo, amore? Tutto ok, amore? Vittoria? Nell'ultima puntata di Mosco Servaggio parlo di quando ho fatto questo provino per questo film hollywoodiano per Netflix con Adam Sandler e Jennifer Aniston e della parte che ho dovuto recitare nel provino. Vittoria? Vittoria? Vabbè, hanno trovato la scena. Vado a salvare mia figlia. Non c'è bisogno di salvarla, perché guardate che agilità. Esattamente, esattamente così. Ciao, amore. Ciao. Cinque? È il mio cinque? Ma è il mio cinque? No. Va bene, allora ti faccio solletico. No. 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 Non mi mordere, non mi mordere il dito. È uscito un nuovissimo episodio di Muschio Selvaggio con l'ospite Fabio Rovazzi. È la prima conversazione di un'ora che abbiamo affrontato dopo cinque anni. Tanti aneddoti, interessante. Vi metto il link qua sotto, guardatela. Grazie. 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 Grazie a tutti.